Mamma mia, gli spavano! La campiera, nottatura, sarà! La campiera, nottatura, sarà! Ammita, sono tescime! Di dentro non ci sono tescime! Ci sono essere umani come voi! Non è perché per un calcio di pezzo di carta mi tenete lì dietro, ci tenete lì dietro! Non è possibile! C'è una cosa che non è merda! C'è una cosa che non è merda! Noi i documenti non li vogliamo perché siamo cittadini del mondo! Noi abitiamo dovunque e viviamo dovunque! Non siamo come voi! Non siamo come voi! Ha pensato solo una terra! Noi pensiamo in generale! Pensiamo a tutti! Quanto è un'interazione metista! Non è un'interazione di fascista! Non è un'interazione di fascista! Quanto siamo cittadini nel mondo! Noi!